Primi test sul parquet per la VL di Coach Buscaglia che domenica alle 19 al Palacattani di Faenza affronterà la Virtus Segafredo Bologna. Una pre-season che comincia con Tambone e compagni in campo con la nuova canotta targata RA che replica una felice tradizione estiva assieme a Prodi Sport. Punto 20 in cui è in corso la campagna abbonamenti e in cui ieri i lunghi Totè e Schilling hanno indossati per primi la nuova City ID. Come tutti gli anni da 4 anni a questa parte RA propone una divisa identificativa per la città City ID che ha all'interno della maglia un particolare della città di appartenenza. In questo caso parliamo di Pesaro. L'anno scorso l'abbiamo presentata con Pesre, quest'anno lo presentiamo con PSR. È un abbrevetivo perché abbiamo scelto l'identità anche questa volta sulla canotta. Mettere Pesaro, ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso è piaciuto tantissimo ma qui si parla sempre di innovazione quindi abbiamo voluto variare anche quest'anno. Altra cosa importantissima è il tessuto. Il tessuto è totalmente nuovo. È un tessuto microforato, è un tessuto molto molto più leggero rispetto a quelli delle stagioni precedenti. È un tessuto totalmente nuovo. È un tessuto marchiato RA, è un tessuto o ecotex quindi che non contiene formaldeide ed è un tessuto certificato. La differenza con la vestibilità delle altre stagioni è che la canotta rimane molto più morbida nella parte frontale. Lo vedrete poi il 3 settembre contro la Virtus Bologna sul quale utilizzeremo la canotta per la prima partita. Invece del solito giro collo presentiamo un collo diverso con una grafica AV che rimane leggermente aperto e dà, secondo il nostro punto di vista, più eleganza alla canotta. Altra particolarità è che quest'anno il RA compie i suoi 35 anni di azienda e abbiamo inserito tutta la parte del loro logo romboidale. Questo perché è per omaggiare l'azienda stessa che festeggia i suoi 35 anni di attività.